Mi sono messo sul letto, guarda, ho, ma posso, non potevi stare un po' di più? Mezzo, ma neanche mezzo minuto, si filma, mi filma, mezzo minuto! Nellino, tesoro della zia! Della zia! Le chiamano nel play golf? Lo sclero! Le cucuacce sclerate! Cazzate, vogli il gruppo, le cucuacce caperate! Le cucuacce, le cucuacce! Dai, dai, dai! Le cucuacce! Mamma, le cucuacce! Mia mamma diceva che un cuacce, le cucchialette, non le... Allora tu mi cerchiare, facciare! Guarda, va, guarda! La sta facendo lui, è la corrompia piccola! La sta facendo lui, è la corrompia piccola! Io mi ricordo, ma... Ma io, le sciocchezze lì, non le faccio! Le sciocchezze! Cioè, hai detto l'altra volta della sedia, no? La facendo quella sedia? Le ho preso la sedia, che era da porti a scattato, perché cercava qualcuno, cercava... Qualcuno ce l'ha portato! Non ce l'ha fatto! Non ho fatto bene a nessuno! Ho finito, preso sta sedia, è era scattato e t'è andata! No, no, ma che era lui! Grazie a tutti.